Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il videoacquisti di giugno 2021. Qua dietro appunto ci sono i poster, di nuovo, insomma, è la seconda volta che li vedete, ma a breve vedrete anche un video dove ve li mostro proprio tutti, tutte le cose che ho attaccato all'armadio. Per quanto riguarda il videoacquisti di oggi, vi dico subito che non vi farò vedere tutto ciò che ho comprato. Alcuni volumi ve li farò vedere nel prossimo videoacquisti, anche perché ho preso diversi volumi e poi ho paura che... ...ce ne siano pochi. Quindi alcuni volumi di questo mese, pochi eh, li vedrete il prossimo mese, perché comunque anche levando questi volumi ne rimangono abbastanza per fare comunque un videoacquisti, quindi va bene. Poi appunto è meglio anche metterli in videoacquisti di luglio perché purtroppo non ce l'ho fatta a leggerli, ce li ho presi il 30 di giugno raga, quindi praticamente il giorno prima di luglio, quindi si possono anche contare come nel mese luglio. E non ho fatto in tempo a leggerli, quindi se li metto nel prossimo videoacquisti potrei anche parlarvene. Comunque tranquilli, sono pochissimi i volumi, vedrete comunque tanta roba. Detto questo, non dilunghiamoci, spero che il video vi piaccia e buona visione. Bene raga, eccoci qua, come sempre. Questa è la prima busta, dentro si vede già qualcosa. Lasciate perdere, tanto qua diventa sempre tutto arancione, raga, non ci fate caso, è bruttissimo, lo odio, distruggerei il telefono tutte le volte che succede, però vabbè, dobbiamo accontentarci. Cosa c'è qui? Abbiamo il quinto volume di Run Day Burst. Run Day Burst, io lo pronuncio Run Day Burst. Come sapete ora lo sto recuperando tutto, tutti e otto i volumi, perché sono un fan dell'autore, di Yuko Osada, che ha fatto opere poco conosciute, ma molto molto carine, tipo Toto o See the Width of the Child. E appunto, essendo fan dell'autore, mesi fa ho visto questo e ho voluto recuperare anche questo. Ora sono arrivato al volume 5, ancora non l'ho letto, però ho in programma, insomma, di leggere quest'estate tutti e otto i volumi insieme, quando li recupererò tutti. Perché, come sapete, preferisco leggere le serie tutte insieme o guardarle tutte insieme. Poi le apprezzo di più, cioè dall'inizio alla fine. Quindi appunto di questo volume posso parlarvene poco. Poi non penso neanche vi interessi, visto che Yuko Osada non se lo caga praticamente nessuno. E quindi mettiamo da una parte il primo manga. Poi abbiamo il quinto volume di Shaman King, di questa nuova edizione. Questa ristampa che stanno facendo, diciamo, vedete, con doppia sovraccoperta. Diciamo ho sfruttato l'occasione di questa ristampa per recuperarmi in Shaman King. L'anime ora sta uscendo, ma avendo 54 episodi ci metterà, o 52, ci metterà un anno per uscire e lo guarderò tutti insieme il prossimo anno. È uguale al manga, tanto escono due volumi al mese praticamente, forse anche di più. Mannaggia a loro. Quindi in meno di un anno finirà e poi lo leggerò anche quello tutti insieme. Forse la prossima estate, non lo so. Comunque appunto per adesso me lo sto recuperando e come vi ho detto non lo sto leggendo. Lo leggerò quando finirà, anche questo. E niente, per adesso posso dirvi poco. Comunque tanto Shaman King sicuramente lo conoscete tutti meglio di me e vabbè. Poi abbiamo anche il secondo volume di Shaman King, che dovevo recuperarlo perché avevo solo l'1 e il quarto, cioè il primo e il quarto, sì che questo mese dovevo recuperare anche il 2 e il 3, oltre a prendere i nuovi volumi, diciamo, in uscita. Quindi ho preso anche il volume 2. Infine ragazzi, concludiamo questa busta con una cosina niente male, ovvero l'ultimo volume di The Seven Deadly Sins. E chi mi segue dirà, ma chi ma perché hai preso The Seven Deadly Sins, soprattutto l'ultimo volume se manco segui la serie? Io appunto non seguo il manga di The Seven Deadly Sins e non ho neanche visto l'anime. Questo è l'ultimo volume, comunque in futuro ho intenzione di recuperarlo, recuperarmi il manga perché l'anime ha delle animazioni veramente schifose, quindi mi recupererò il manga e ho sfruttato l'occasione, ho preso questa uscita qua perché, vedete, insieme c'è anche una postcard esclusiva, un mini artbook di 32 pagine e alcuni stickers. Quindi ho detto, vabbè, sfrutto l'occasione, prendo il 41esimo volume, almeno intanto ce l'ho. E ho anche un mini artbook. Ora andiamo subito ad aprire questa confezione, visto che ancora non l'ho aperta. Come sapete, quando ci sono queste confezioni, spesso preferisco aprirle nel video e farle vedere a voi. Allora, abbiamo qua, vabbè, il nostro volume 41, non mette neanche a fuoco? 41 di The Seven Deadly Sins, ultimo volume. E qua abbiamo questo, vabbè, che non ci interessa. Abbiamo gli stickers, non li attaccherò, però vabbè, sono comunque pezzi da collezione. Abbiamo questa postcard, come le Odas e Elisabeth, penso si chiami. E poi questo mini artbook. Vediamo un po'. Comunque, vedete, ci sono tutte queste illustrazioni. Cioè, ora non potete aspettare di un artbook perfetto, però comunque, secondo me, anche avere una cosina così è tanta tanta roba. Cioè, guardate comunque che belle pagine tipo queste, o questa, guardate che bellezza. Cioè, io non ho neanche visto The Seven Deadly Sins, però guardate quanto sono belle. Sicuramente quando lo leggerò questo artbook mi piacerà ancora di più. Guardate, bello. Fantastico. Guardate qua, guardate le illustrazioni. Ho fatto veramente bene a prenderlo adesso. Ora vi ho fatto vedere anche tutto l'artbook, però vabbè. E vabbè, raga, direi di andare avanti con la prossima busta. La prossima busta è, come vedete, della Panini. E qui abbiamo il sesto volume di Run Day Burst. Prima avete visto il quinto, comunque ve ne ho già parlato. Cioè, fra virgolette ve ne ho già parlato. Insomma, vi ho già detto un po' di cose. Direi di andare avanti. Abbiamo poi il numero 26 di Kenil Guerriero. Anche questo stesso discorso di Run Day Burst. Lo sto recuperando e spero di leggerlo quest'estate. Comunque mi mancano solo, adesso mi mancano solo il 25 e il 27. Perché ho preso il 26 allora? Perché il 25 era un po' rovinato in fumetteria. E ho detto, vabbè, aspettiamo, magari poi rientra. È tenuto un po' meglio, non si sa mai. Ora, la prossima volta che andrò in fumetteria, se c'è sempre quel volume lì un po' rovinato, prenderò quello perché ho bisogno di finire sta serie. Ovviamente, come vi ho detto, anche questa quando l'ho letta, sì che posso dirvi poco. E oltre al volume 26 abbiamo anche il volume 21 che dovevo recuperare perché mi mancava e l'ho recuperato. Ora mi mancano definitivamente solo il 25 e il 27. Provo a tenerlo così con la luce spenta, forse si vede meglio. Abbiamo poi, ragazzi, il sesto volume di Shaman King. Sempre la stessa edizione, quella con la doppia sovraccoferta. Insomma, vabbè, l'ho già fatta vedere. Ho già altri due volumi lì. Proviamo ad accendere questa luce qua di lato, ragazzi. Non so come fare, se no diventa tutto arancione ed è bruttissimo. Poi, ragazzi, abbiamo il secondo volume di Living Room Matsunaga Sun. Come vedete ancora non l'ho letta, è ancora chiuso perché dentro c'è una cartolina esclusiva disegnata dall'autrice durante gli Star Days e volevo, come sapete, aprirla insieme a voi. Quindi, leviamo tutta questa plastica, cerchiamo... oh, dura però, eh! E questa qua è la cartolina esclusiva. Vedete, è proprio una cartolina. A volte sì, mettono queste cartoline nei volumi... Boh, comunque, carina. Scansionando questo QR code è possibile anche vedere proprio il video dell'autrice che disegna questa cartolina. Anche questo mettiamola qua accanto a Meliodas. Di questo volume purtroppo posso dirvi poco. Comunque Living Room è una serie davvero molto molto carina. Il primo volume è veramente bello. Ora, comunque, in Giappone sono arrivati già al decimo, sì che un po' durerà. Però, appunto, è una serie davvero bella che vi consiglio. Se vi va, magari, recuperatevi il primo volume per vedere un po' se vi piace oppure no. Niente, riaccendiamo dall'autrice, raga, non è fattibile. Tanto diventa arancione... Eh, bisogna farci una ragione. Poi l'emoto, vabbè, di tutto. Oh, io quando registro un video deve esserci sempre qualcosa che mi disturba. Vabbè. E ovviamente hanno appena suonato il campanello, cioè appena ho finito di dirlo, vabbè. Comunque, come vi ho detto, questa è una bella serie che vi consiglio. Ora ancora non ho letto il secondo volume, ma per come era il primo ve la consiglio. Poi abbiamo il dodicesimo volume di Boruto. Raga, Boruto, cioè, boh, perché è bello leggerlo. Comunque, vedete, le tavole sono molto belle. Ora ve le faccio vedere così. Cioè, a me piacciono molto le tavole, anche questo contorno bianco mi piace davvero un sacco. E poi, come vi dico sempre, è bello leggerlo. Però, raga, ci sono alcune cose che non tornano per niente. Cioè, una cosa, qua spiegano un pochino chi sono gli Otsutsuki, no? Però, per alcune cose, mi fanno veramente cascare le braccia. Cioè, ma com'è possibile? Se l'avete letto, probabilmente sapete a cosa mi riferisco. Spiegano anche meglio che cos'è il karma. E lì, veramente, vabbè. Poi, raga, si fa fatica a stare dietro a Boruto. Cioè, si esce un volume ogni quattro mesi. Come faccio io a ricordare? Io devo sempre andare a rivedermi il volume prima. Però, non posso neanche rileggermelo. Sì che, lo riguardo un po' approssimativamente. Mi ricordo un po' le cose. Però, ragazzi, cioè, è difficile da seguire, capite? Comunque, da tutto sommato, è stato un bel volume. Comunque, dai colpi di scena. Un personaggio che potrebbe essere interessante. Moto maledetto, del cazzo. Per chi stesse seguendo l'anime, l'anime è arrivato praticamente in pari. È arrivato alla fine del volume 10, credo. Quindi, sta... Insomma, è quasi in pari. Quasi. Perché ancora manca tutto il volume 11 e tutto questo volume 12. Ma prima che esca al 13, tranquilli che o sarà in pari o avrà ricominciato a fare miliardi di filler. Comunque, vabbè, Boruto, insomma. È sempre Boruto. Poi abbiamo il secondo volume di Dragon Ball Heroes, Missione nell'oscuro mondo demoniaco. Allora, diverso dal primo volume... Cioè, diciamo che il primo volume non mi era sembrato granché. Mi aveva un po' deluso. Con questo qua, invece, si è ripreso. Perché questo volume mi è piaciuto molto. Comunque, si rivedono anche vecchi personaggi di Zeta. Personaggi che non si cagava più in nessuno. Anche non canonici. Anzi, soprattutto non canonici. Però, comunque, bellissimi personaggi. Poi, in questo volume, vabbè, stanno continuando a cercare quelle sfere del drago tipo malvagia, quelle strane, insomma. Vediamo diversi scontri. Comunque non ci saranno solo Goku e Trunks, ma, vabbè, arriveranno anche Vegeta, Gon e Goten. Poi ho visto che il prossimo mese uscirà il terzo volume, che sarà l'ultimo. E poi a settembre uscirà un altro Dragon Ball Heroes, che probabilmente sembra che seguirà l'anime. Perché, come sapete, c'è anche l'anime di Dragon Ball Heroes, è in corso, insomma, sta uscendo settimanalmente. Però è totalmente diverso dal manga, insomma. È proprio come se fossero due serie diverse. Totalmente diverso. Invece, la nuova serie di Dragon Ball Heroes sembra che sia uguale all'anime. Comunque, comunque che segue l'anime. Vediamo. Sicuramente ancora è presto per dirlo, però vi posso dire che questo secondo volume è molto più bello del primo. Almeno è leggibile. E comunque, ve l'ho detto, a me mi è piaciuto. Poi, raga, abbiamo il terzo volume di Zero Street Time, spin-off di Detective Conan. Questo, raga, si legge proprio velocemente. Cioè, a parte perché ogni capitolo dura solo 14 pagine. Poi è poco rispetto ai capitoli normali. Cioè, c'è poca differenza rispetto ai capitoli normali. Però, ragazzi, anche perché è poco veloce da leggere. Cioè, non so perché. Poi, vabbè, è carino. Cioè, comunque uno spin-off, sicché più di tanto bello, non può essere. Però comunque è carino. Cioè, si legge... Cioè, bellino, dai. Se siete fan di Conan, prendetelo. Ora ve lo sfoglio un pochino, ma non ci sono spoiler. Tanto ogni capitolo, praticamente, racconta un episodio a sé. Poi è troppo carino il suo canino, ragazzi. È troppo bellino. Comunque, vabbè, non so quanti volumi saranno. In Giappone penso sia ancora in corso. Spero duri poco, perché comunque, sì, carino questo spin-off su Amuro. Però, raga, neanche da farlo di 10 volumi. Perché se no smetto veramente di comprarlo. Cioè, non posso spendere quanto? 5,50 euro per uno spin-off così. Cioè, ne faccio tranquillamente a meno. Ora, vabbè, lo sto comprando, ma se deve durare 10 volumi, insomma, anche no. Comunque, abbiamo finito la busta della Panini, quindi andiamo all'ultima busta. Eccola qua. In quest'ultima busta abbiamo il tredicesimo volume di We Never Learn. E, insomma, a vedere la copertina si capisce già cosa succederà. Comunque, We Never Learn si è concluso in Giappone col ventunesimo volume. Quindi, in Italia, essendo mensile, finirà a marzo, più o meno. E, ragazzi, come vi dico sempre, è una serie molto carina. Io ora non sono proprio in pari con la lettura. Mi mancano, tipo, uno o due volumi da leggere ancora. Però è molto carino. Ogni capitolo, vabbè, è un episodio diverso di questo protagonista e questo ragazzo qua. Però è molto carino. Non è solo edgy. Anzi, ci sono manga messi molto peggio. E questo, più che altro, lo compro per la storia. Perché proprio mi piace la storia. Mi piacciono gli episodi che vengono raccontati. Insomma, vabbè, se seguite i miei videoacquisti, lo sapete. Perché lo dico praticamente in tutti i videoacquisti. O tutte le volte che parlo di Win Ever Learn, quindi, vabbè, lo sapete. Quindi, vabbè, alla fine c'è poco altro da dire. Poi abbiamo Comic & Communicate, volume 7. Anche questa serie, sapete, mi sta piacendo tanto. Anche qui in Giappone sono arrivato al volume 21, solo che questo è ancora in corso. E, infatti, in Italia sto facendo un volume ogni mese, anche meno. Quindi, cioè, prima usciva tipo ogni due mesi. Poi ogni mese, ora ogni meno di un mese. Cioè, già devo stare dietro a Shaman King, ora devo stare dietro anche a Comic. Comunque, vabbè, è una serie molto bella che mi fa piacere prendere. Il titolo dice già di cosa parla, poi non ha senso comunque parlarvele troppo al settimo volume. L'unica cosa che vi posso dire di questo volume è che purtroppo ancora non l'ho letto. Però ho letto il sesto e mi è piaciuto veramente tanto. Per me i volumi preferiti, cioè i miei volumi preferiti di comi, quelli più belli, insomma, sono il terzo e il sesto. Comunque vi consiglio di recuperarvi questa serie perché è una serie comica, fa morire da ridere ed è anche molto bella. So che è una spesa anche perché un volume ogni neanche un mese, cioè, è tanto. Però, se vi va, prendetela. Ho provato almeno a recuperarvi il primo volume, io vi consiglio per apprezzarla dovete leggere almeno fino al terzo volume. Poi vedete un po' se non vi piace, lasciatela, cioè droppatela. Poi abbiamo il settimo volume di Randy Burst, avete visto prima anche il sesto e il quinto. Ora ragazzi mi manca solo l'ottavo volume. Lo vedrete probabilmente nei video acquisti del prossimo mese. Insieme a, spero, gli altri due volumi che mi mancano di Kenny il Guerriero. Comunque, vabbè, vi ho già parlato abbastanza di Randy Burst, andiamo avanti. Abbiamo il settimo volume di Shaman King. Ultimo volume uscito e fra due settimane asce l'otto. Cioè, raga, come si fa? Due volumi in un mese? Ma come faccio? Cioè, sono 26 volumi, fra almeno di un anno l'ho già finito, ma vi rendete conto? Vabbè, non commentiamo. Comunque anche di questo ve ne ho parlato tanto, cioè ci sono altri tre volumi. Quindi, altri tre volumi, questo è il quarto. Direi, posso anche non parlarvene più, cioè quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. E vi dirò di più. C'è anche il terzo volume. Questo, insieme al secondo, mi mancava, dovevo recuperarlo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Sì che l'ho recuperato questo mese. E infine, ragazzi, abbiamo il quarto volume di Sunset Light. Sunset Light si concluderà col quinto volume. Questo, vabbè, è il quarto, sì che me ne manca uno solo. E volevo leggerlo quest'estate. Il problema è che, cioè, esce ogni due mesi. Perché il quinto volume esce a settembre, quindi fra tre mesi? E probabilmente, dato che uscirà a settembre, non riuscirò a leggerlo quest'estate. Cioè, se c'è a fine settembre, ormai non sarà più estate. Peccato, perché questa qua era una serie che proprio ci tenevo a leggere d'estate. Però, vabbè, purtroppo. Anche di questa posso dirvi poco, perché quando ho visto che, cioè, ho preso il primo volume, ho visto che sarebbero stati cinque volumi soli, ho detto, vabbè, me la leggo tutta insieme. Quindi non vi posso dire niente su questa serie, perché non so niente, visto che non l'ho letta neanche io. Bene, raga, i manga giapponesi sono conclusi. Perché dico giapponesi? Perché per i manga italiani abbiamo il terzo volume di Manga Vibe. Quello che, fra molte virgolette, viene considerato lo Shonen Jump italiano. Però, comunque, l'idea c'è. Quindi, io per adesso lo sto prendendo, visto che comunque ci lamentiamo sempre che non ci sono le riviste in Italia. Però, quando ci sono non le prendiamo, allora, cioè, bisogna prenderle. Questo volume mi è piaciuto un po' più degli altri, e, vedete, è bello cicciotto, perché c'è un volume in più rispetto al secondo volume. Vedete, cioè, ci sono due capitoli di Zara X2 e Manca Sharkboy, perché l'autrice aveva il Covid. Però c'è anche un volume in più, scusate, un capitolo in più, che è il primo capitolo di In Riascia, questa nuova serie ispirata alla canzone In Riascia di Mahmood. Infatti la supervisione, vedete, è proprio di Mahmood. E, boh, questo primo capitolo è abbastanza carino. Poi, in generale, i capitoli delle varie serie che troviamo in questo volume, secondo me, sono migliori, cioè, sono alcuni parecchi migliori, altri leggermente migliori, di quelli del secondo volume. Fra questi capitoli, il mio capitolo preferito, che è stato poi anche quello che ho votato sul sito di MangaVibe, è stato il terzo di Sam. Se prendete MangaVibe, anche voi andate a votare sul sito www.mangavibe.it, vedete, lo trovate qua. Io ho votato Sam, ma, ovviamente, è quello che è piaciuto a meno persone. Cioè, io quando voto qualcosa, piace sempre a meno persone. Nello scorso volume avevo votato Arcadia Noikos, perché secondo me era il capitolo migliore, di quelli, appunto, di quell'uscita lì, e era quello che la gente aveva apprezzato meno. Oh, vabbè. Vedete, era arrivato l'ultimo. Questi qua sono i risultati del sondaggio dello scorso volume, del secondo. Però, vabbè. Comunque, ragazzi, nonostante il mio capitolo preferito di questa uscita sia stato Sam, secondo me la serie migliore per adesso è Zara X2, perché Sam, gli altri volumi, non mi aveva convinto più di tanto, anzi, forse era quello che mi era piaciuto meno. Però, cioè, questo volume, il terzo capitolo è veramente bello, ma la serie migliore, secondo me, è Zara X2, seguita da After Time. Probabilmente Zara X2 mi è piaciuta di più, anche perché qua sono scesi due capitoli, sicché ho letto, diciamo, più pagine, più cose. Però, ragazzi, è veramente difficile seguire una serie così, cioè, che esce un capitolo di 20-40 pagine ogni due mesi. Cioè, raga, è difficile seguirle così, le serie. Io, cioè, poi non mi ricordo più niente. Meno male c'è il riassunto di ogni serie prima dei capitoli, perché sennò, ragazzi, cioè, è parecchio difficile da seguire. Dovrebbe uscire almeno mensilmente. Ma almeno, cioè, in Giappone sono mensili quelli che hanno i capitoli di 40-50 pagine, ma quelli di 20 pagine, cioè, con i capitoli di 20 pagine, sono settimanali. Qua, cioè, capito, ci sono anche capitoli di 30-40 pagine e sono bimestrali, cioè, ragazzi, tanta roba. È difficile da seguire, però per adesso continuo a prenderlo. Un'altra cosa che non vi ho detto è che, quando è uscito questo volume, è uscito anche Manga Vibe Extra, il primo volume. Allora, promette male. Non mi ispira tanto, però l'ho preso per curiosità, per vedere com'era. Non l'ho ancora letto, sicché ve lo faccio vedere il prossimo mese, quando lo avrò letto e ve ne parlerò il prossimo mese, visto che, essendo bimestrale, il prossimo mese non ci sarebbe un altro Manga Vibe, sicché vi farò vedere il Manga Vibe Extra. Speriamo bene, ragazzi. Ho paura di dropparlo, però vediamo. Comunque, per adesso Manga Vibe continuo a prenderlo, perché mi piace anche l'idea che ci sia questa rivista di manga italiani. Poi, ragazzi, ovviamente, per quanto riguarda le miniature di Naruto, abbiamo Zetsu, Ino, Neji e il maestro Asuma. Bello briacchello, guardate in faccia che ha. E poi, ragazzi, ho preso anche dei poster molto carini che adesso vi faccio vedere. Sono tutti e tre di Beastars. Il primo è questo qua, vedete? Con Legoshi, Haru, quest'altra che non mi ricordo come si chiama, e Luis. Il secondo è questo, con l'orso che anche questo non mi ricordo come si chiama, comunque è della seconda stagione. Mi piace un sacco questo poster qua. E infine, ragazzi, questo coso enorme, che non c'entra neanche bene nell'inquadratura, con un po' tutti i personaggi. Vedete il panda, Haru, Jack, lei che appunto non mi ricordo come si chiama, Legoshi, col pelo tagliato, bellissimo, bellissimo. All'inizio non mi piaceva, ma poi l'ho apprezzato un sacco. E Luis, comunque vedete, questo poster è enorme. Ben, ragazzi, questi sono gli acquisti di questo mese di giugno. È diversa roba e contate alcuni volumi, appunto, come vi ho detto, non li ho messi. Però, appunto, tranquilli, c'è solo quattro volumi alla fine. E li vedrete comunque il prossimo mese. Detto questo, ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram, attivate la campanellina. Se non l'avete fatto, ascoltate il mio album, trovate tutto in descrizione. Mi raccomando, seguite il gameplay di Pokémon Diamante, perché a me mi sta piacendo un sacco registrarlo e portarvelo con tipo tre video a settimana. Detto questo, raga, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi. Comunque, Win Ever Learner si è concluso in Giappone col 29-21. Ciao, ragazzi. Grazie.